Oltre 5 miliardi di euro di fatturato, 4 per i territori dell'Altotevere Umbro e 1,3 per quelli della Valtiverina Toscana, 235 milioni di utili con circa 17 mila addetti complessivi. Questa è una fotografia di circa 2.300 imprese da Umbertide a Pieve Santo Stefano, illustrata nel recente convegno all'Università degli Studi Link. Questo territorio che non è soggetto ai grandi numeri della grande distribuzione esprime quella che è l'industria produttiva, quindi il leader è la meccanica, pur soffrendo il settore dell'automotive, ma vedremo le evoluzioni nei prossimi mesi, però c'è da dire che è un territorio che esprime quasi il 12% il PIB regionale. E lo fa su questa lingua di terra a cavallo tra Umbria e Toscana, in 15 comuni, dove la maggior parte, insomma la parte più corposa è rappresentata dagli otto comuni dell'Umbria. Tra i nanti sono Umbertide, città di Castello e l'idere indiscussa rimane sempre la meccanica. Una diapositiva che parla di crescita economica costante negli ultimi cinque anni, nonostante tutto, trainata ad alcuni settori, frutto anche dell'apertura a fonde di investimento. C'è anche l'agroalimentare che si sta esprimendo bene, raccoglie i frutti di quello che è stata l'espressione e la promozione del brand Umbria nel mondo. C'è da dire anche un'altra cosa, che fino a qualche anno fa sentire operazioni di investimento da parte di fondi su aziende del territorio erano quasi notizie da prima pagina. Invece negli ultimi anni, specialmente nell'ultimo anno, ci sono state diverse operazioni di equiti, diversi ingressi di aperture di capitali da parte di fondi. Sono state fatte operazioni importanti, operazioni che hanno permesso di capitalizzare, di rilanciare il territorio, ma soprattutto di aumentare anche l'indice occupazionale, che è stata una costante anche da cinque o sei anni a questa parte.